Buongiorno a tutti cavalloni! Allora, sono qua per iniziare questo gameplay random di Josscoast 3 dico gameplay random perché probabilmente non sarà una serie, sarà semplicemente un gameplay in due parti o tre o quattro insomma, che dir si voglia, quante ne voglio di parti, ma semplicemente per vedere un po' come è strutturato il gioco come inizia e insomma cosa cazzo si deve fare in questo gioco perché non so assolutamente che cazzo di gioco sia Josscoast 3 quindi iniziamo subito con l'introduzione Swear Enix in teoria fanno dei giochini di solito, Avalon Studios non so chi siano quindi potrebbero essere semplicemente dei coglioni e Swear Enix essere solo... ok ok, cercherò di non parlare sulle... sui dialoghi Sebastiano Di Ravello, davvero? eccolo qua il nostro tamarrissimo Rico Rodriguez specialista nella rimozione di dittatori ok Mario Frigo Rockstar dei ribelli o ribelle rockstar, non lo so notiamo subito che la grafica non è Dima al-Masri è la mente della ribellione 13 è salda nonostante le numerose ma mai contavate segnalazioni di violazione dei diritti umani pare che alcuni dissidenti siano costretti a lavorare nelle migliore delle migliori di Bavarium altri sono semplicemente spariti Nessuno dovrebbe possedere il potere del Bavarium il potere del Bavarium? eh... leader populista esiliata il potere del Bavarium? Cos'è sto Bavarium? ma mi son perso Tom Sheldon eh... alleato in vendita, in affitto generale di Ravello oppressore entusiasta entusiastico, non lo so ma... cioè io non so non so molto bene se mi sono perso qualcosa eh... tipo in Just Cause 2 che dovevo giocare prima a Just Cause 2 per giocare questo gioco non penso perché penso che sia un gioco super tamarro e semplicemente dove andati in giro a sparare alla gente ai veicoli e ha fatto un casino da malanno almeno così mi ricordo che era stato venduto cioè non è mai stato venduto per la trama questo gioco diciamo eh eh... che mucchio di letane eh... credi a questo tizio Rico? tempo stimato all'arrivo 4 minuti buongiorno splendore ciao eccomi qua il tamarrissimo Rico Rodriguez figlio Rodriguez è già un bel nome tamarro cioè anche Rico cioè nel senso il cognome so che il cognome è Rodriguez ragazzi non sono mica idiota un po' per tutte e due penso facciamo... eh infatti facciamo esplodere un po' tutti a caso no? non possiamo farci nulla vedi Sebastiano di Ravello è seduto su tonnellate di Bavarium il che lo rende il migliore amico dell'agenzia Sheldon questa era casa mia beh... goditi il comitato di benvenuto allora e... non dimenticare la pistola minchia sarà seduto sul Bavarium cazzo cioè è già un pericolo quest'uomo adesso aspetto solo il momento in cui mi diranno che il Bavarium è magia ok si con un lanciarazzi va bene gioco dammi subito un lanciarazzi gioco perché non c'è nessun bisogno di cercare di nascondere la tua tamarraggine bellino il titolo così dai bellino bella transizione non male bravo gioco bravo ci sai fare wow è un tiro al bersaglio si lo vedo cazzarò ok allora lanciarazzi distruggi quel cuore non ho una mira ma che merda c'è la l'unica mira che ho è questa non posso non posso zoomare sulla mira è una rottura di coglioni questa però raga ma boh vabbè io continuo a sparare ma quello che mi preme gli edifici visto che mi è stato venduto come una cosa che puoi fare il casino che vuoi ma gli edifici esplodono perché no sono what no 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 cosa ma sono morto adesso che cazzo faccio siamo senza un motore siamo senza un motore eh ho capito ma che minchia faccio sono già in un cioè ma ma era progettato che scendessi dal wow what ok gioco inizia inizia già bene inizia già bene sarà già divertente ok paracadute andiamo due minuti che è iniziato questo gioco e già c'è un glitch assurdo ok speriamo nella caverna dai rico dai vero è un po' più veloce più veloce spara rampino wuuu uuuu uuuu ma qui c'è un lanciarazzi è il mio che mi è caduto raccogliamo sta roba vieni qua su e dammi una mano arrampicati in fretta ma stai buono ciccio uuu ma posso fare uuu ma che figo oh questo è fichissimo raga posso usare la milizia è qui posso usare il paracadute c'è una comp c'è una roba posso fare non so neanche come spiegarla oh mio dio li ho sparato oh mio dio ho ucciso il mio amico ok sta andando benissimo direi vabbè cosa vuoi Mario da quanto tempo anni sei arrivato al momento giusto lo so è sempre così si finisci la frase Mario finisci la frase Mario madonna quanto le odio le persone che finisci le frasi minchia se le odio le persone che non finiscono le frasi quando li parli porco zio è stato incredibile no beh io non ho visto niente di quella scena comunque Mario perché sono finito in un glitch ma se dici che è stato incredibile ti credo i ribelli sono nei guai dobbiamo andare oh sei fatto serio ehi Mario guido io certo che guido io ma che scherzi vorresti guidare tu no seriamente già finire in un glitch cioè ancora prima di iniziare il vero gioco cioè tempo cosa un minuto bellissimo stiamo arrivando dacci dentro rico diamoci dentro allora wow ok la guida sembra fare cagare ragazzi a dire la verità un po' me lo aspettavo freno uh la prova del freno a mano vediamo se fa cagare si 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 decisamente allora ragazzi vi spiego la prova del freno a mano è quella secondo la quale voi in qualsiasi gioco principalmente open world siete quando guidate i veicoli tirate sempre il freno a mano perché quella è la prova definitiva se il sistema di guida fa cagare oppure no se la macchina si comporta come una cazzo di cassetta con le ruote vuol dire che il sistema di guida fa cagare se invece no bene così questa diciamo che non sta promettendo bene questo gioco dal comparto di vista dal punto di vista tecnico se non altro ma cosa mi aspettavo del resto just cause 2 mi hanno detto che era una minchiata carro armato madonna che fastidio non avere un un reticolo di mira zoomata vabbè ma io vado nel carro armato così andiamo allora spara con l'arma ok ok ah ok va bene allora inizio a sparare come uno stronzo alla gente boom testa di minchia oh mio dio la visuale ha tipo la visuale invertita o qualcosa o è o è stranissima non capisco quella moto è morta anche questo è morto dov'è che sono gli altri ah ce l'ho fatta dimma ah dimma l'autorezza ok ma che certo che scherzi datemi pure un elic- già nel giro di cosa 5 minuti mi ha dato un lanciarazzi un carro ok scusate ragazzi per il taglio ma c'è stato un piccolo problema tecnico risolto adesso dicevo nel giro di 5 minuti mi ha dato un carro armato un elicottero un bazooka figa wow wow anche gli elicotteri si comandano di merda già già non promette bene sta cosa ah no ma io sto andando solo in avanti ok ok va bene bene così medici all'isola si chiama medici è vero ma puoi ma puoi chiamare un'isola medici qui non hai comandi di gta però non posso non posso girarlo va bene oh mio dio oh mio dio che schifo di atterraggio sto facendo raga che schifo ma potevo lanciarmi con oh no bene ho già fallito la prima missione sei morto oh cazzo adesso Adesso non me ne fotto proprio l'elicottero, mi butto l'elicottero, non provo più a parcheggiarlo. Tanto probabilmente lo farà saltare in aria così a caso come il carro... Ah no, vabbè, il carro armato non si poteva muovere quindi non l'ha preso. Quindi magari l'elicottero... Vabbè, no, ma cazzo mene, lo distruggo io stesso, semmai. No, comunque tempi di caricamento molto... Dove cazzo sono? Ah ok, sono qua, mi ha... Mi ha fatto andare lo stesso, sconfiggi i soldati. Verla... Cos'è quel coso a 40 metri? Ah ok, ok, adesso salgo. Aspetta, stai buono che salgo? Ma... Come cazzo... Ok, niente. Sono coglione. Mi sono scordato che avevo un rampino. Dove sono? Io non li vedo. Cazzo io senza se non zoomo sulle persone non riesco a vederle. Raga, sono vecchio, non riesco a vedere bene. Ok. Bene. Ma qui arrivano pure. Tutti stronzi, morite! Oh mio Dio, c'ho un'elicottero. Preso. Sono morti tutti? No, qua. No, qua. Immagino che quelli blu siano i miei amichetti, quindi cerco di non ucciderli. Quanto mi sia possibile. Dov'è che sono tutti gli altri? Ok, sono tutti morti. Bello. Ma non ti ho neanche visto, Mario. Come hai fatto ad arrivare qua? Eri sull'elicottero? Forse era sull'elicottero. Ah, eccoti. Dima. Dima Ali Umar al Masri. Mmm. Indiana? Non lo so. Scaffoide? Tutto a posto? Ah, questo rampino è datato. Antiquato. Bisogna aggiornarlo. Va bene. Aggiorna, aggiorna, dai. Quando vuoi. Ma è meglio appena puoi, se vuoi. Dima. Eh? Farei che il sottotitolo non diceva quello che ha detto lei, ma va bene. Ciao. Ok. Sei molto simpatica, Dima. Molto, molto simpatica. Non so se mi fai più pena tu o gli sviluppatori di questo gioco che credevano che fosse una scena simpatica questa e divertente, perché... Ok. Allora, missione compiuta. Bentornata a casa. Grazie. Infoderiamo l'arma. Grazie, grazie. Allora, devo andare qua? Ma qui cosa c'è? Ci sono armi. Uh. Cos'è questo coso? Cos'è sto ro... Oh, che feco! È un lanciagranate? Oh mio, addio, lanciagranate che figata. Avviamo la missione. Vediamo quali bellissime missioni ci riserva questo... Questo gioco. C'è una rivolta a medici. Seguimi, seguimi. Una rivolta a medici. Mostro qualcosa di completamente avulso dalla clonazione. Dai! Avulso dalla clonazione? Cosa... Di cosa stai parlando? Possiamo iniziare subito a provarlo. Che transizione era questa? Siamo riusciti a ridurre il catastrofico tasso di fallimenti. Siamo stati cauti. Guarda gioco che se mi butti addosso parole a caso. Non è che mi... Cioè... Non è che penso che tu sia intelligente. Mi confondi solamente. Non sono fatta per il lavoro sul campo, ma tu mi hai salvata. Va bene. Dopo il Guatemala ho cominciato a studiare il Bavario, perché c'è solo... Eh, cos'è? Ok. È la magia di medici. È la magia di medici. Può essere raffinato e diventare un potente esplosivo. O una fonte di carburante quasi illimitata. Ma Rico, il Bavario, ma nelle mani sbagliate... Noi cambieremo le cose. So di poter contare il sommario, Dima. Che mi dici di te? Ho commesso molti errori, Rico. Il perdono si ottiene con i fatti, Dima. Cosa ha fatto questa? Dovrei saperlo... Basta, scusa. Ok. Ti aiuterò. Brava. Ci vediamo all'avamposto, guardia alba. Aiutami a non rompere i coglioni. Aiutami a testare il nuovo equipaggiamento. No! Cioè, testiamo questo nuovo equipaggiamento e vediamo se ci ha dato cose che ci potrebbero fare esplodere la faccia. No, già, è così. Tanto per essere... Primo, lancia il rampino. E mentre riavvoggi, apri il paracadute. Ah, sì, quello che ho fatto prima. Tanto per essere... Ottimisti. Bello. Fatto. Eh, fortuna un cazzo. Stronza. Guarda qua. Guarda qua come me la viaggio. Bastarda, cosa ne sai tu? Ma lo sto già facendo, zia. Sono un genio. Ti ho preceduto. Eh, chi è il genio? Perché non lo danno a me una laurea in medicina delle invenzioni? Boh. Ricco, fermo, fermo. Ecco. Esplosione evitata. Esplosione? La sicurezza prima di tutto. Ah, cioè, è proprio così? Sì, spostati. Io stavo scherzando sulle cose che avrebbero potuto farmi esplodere la testa, ma... Ma cosa... Non hai paura di volare, vero? Ah, no. La gente acrofobico. Sarebbe assurdo. Questi sono ribelli. Salute. Salute. Cosa mi hai fatto? Ah, è il progresso che avanza. Abbiamo potenziato il tuo rampino. Ci sono meno probabilità che ti strappigliarti. Ora puoi collegare due oggetti e tirare. Il tuo amico Mario... Bello. ...viene chiamarlo Elastico03. Ma io lo trovo un nome un po' banale. Guardi, Alfa, sembrò un buon posto da cui iniziare. Perché Elastico03? Cazzo... Ci sarà qualcosa nella traduzione che... ...che avrà avuto più senso, probabilmente. Ho intratto che i ribelli non sono il massimo a scavalcare le cancellate. Dieta povera, credo. Vuole già tanto che questo gioco abbia un doppiaggio, però, in effetti. Non mi sembra... ...un gioco di punta di Sperenix. Ok, allora, aggancia... ...questo... ...tieni premuto. Mi rilascia per agganciare. Così. Oh, che fig... Oh, che figata! No, questa meccanica è fichissima. Fammela provare. Uno... ...due... Boom! Che figo! Non ho neanche bisogno delle armi, raga. Adesso come qua. Questo con... Wow! Stai buono, eh. Non mi fare esplodere a me. Wow! No, l'ho sbagliato. Dovevo tenere premuto. Vieni premuto qua. Poi lo smollo su qua. E poi lo tiro. Boom! Boom! Ma che figo! Adesso cos'è che rimane? Questo? Ma è bellissimo. No! Aiuto! No, 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 no! Andiamocene via camminando. Non l'ho detto camminando, Rico. Ecco, così sì che sei figo. Oh, mi fa anche lo slow motion! Bellissimo! Che tamarrata! La funzione in tensione è attiva. Inoltre richiedo ulteriore assistenza. Ecco le nuove coordinate. Ok. Le nuove coordinate. Scusate un secondo che... Mi sembra che l'audio sia un po'... Mi stia un po'... Ammazzando. Ecco, mettiamo le voci al massimo e gli aveva tutto il resto... Indietro di due. Perché il mix mi sembra un po' fatto col culo. Andiamo a trovarla. Adesso posso spararle col lancio? No, non posso. Un lavoro scadente. Il firewall ha più buchi del Groviera. Chi ha messo in piedi questa rete? Dei babbuini? Bah, poco funzionale. Bastava che mi chiamassi. Le forze governative stanno per attaccare. È una rappresaglia. Per ieri notte. I ribelli sono in pericolo. Verranno sopraffatti dalle forze avversarie. È tragico. Ma è elettrizzante. Cioè, non mi riferisco all'attacco. Mi sono espressa male. È elettrizzante poter provare la mia ultima invenzione. Cos'è quello? Per evitare disastri. Allarga le braccia. Così. Cos'è? Vuoi farmi esplodere di nuovo, cara? Fatto. Ora hai una tuta alare. Utile per planare. Meglio se inizi di ciò. Va bene. Questa è buona. Spero che funzioni. Per il bene di entrambi. Sono sicuro che funzionerà benissimo. Dobbiamo fare le cose per bene. Ok. Vediamo se sono pronto a fare questa cosa. Ok. Saltiamo. No. Non pensavo di dover saltare attivamente. Che figo. Oh, ma è fichissimo. Oddio. No. No, 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 no. No, no, no. Oh, cazzo. Sta andando nella direzione sbagliata. Raga. Raga. No. No, ma tirami su, cazzo. Dai. Ok. Così. Dai, tirami. Grande. Ok, ce l'ho fatta. Tiriamoci giù prima di fare qualche minchia. Oh, la madonna. Un po' tanti gliccetti, eh, qua. Allora, seleziona. Ah, devo fare esplodere il ponte. Va bene. Seleziona. Posizione esplosiva. Prup. Qua. E poi, qua. Bup. Mi dirigo verso un punto più sicuro. Dove devo dirigi? Eh, la madonna. Fino a là. Ciao. Metti via questo coso. Si sostano rapidamente. Fai in fretta. Wow. Bella. Sentite questa musica di tensione, proprio. Che cazzo devo andare? Nel giardino? Qua nelle fronte? Ma qua c'è un burrone o...? Ah no, ok. Tutto a posto. Pronto per il convoglio. Tieni premuto. R3. Eh, che brutto però con l'outline... ...col contorno così rosso fosforescente. Vabbè, io li guardo così. I soldati di Diravello non sapranno cosa li ha colpiti. Vai. Ora. No. Ma co... Ma dai! Ma pensavo fosse quello il momento. Va bene. Dai, rifacciamolo. Allora lo faccio su. Appena me lo dice, lo faccio. Pensavo di dover aspettare il momento giusto. Invece probabilmente è molto più stupido di quanto... ...di quanto sembri. Sì, però ragazzi, c'hai i caricamenti così nel 2000... Ma tutto! Mio Dio, che palle ragazzi! Dai, vediamo di non mancare il ponte. Aia! Ma come non ho raggiunto il ponte? L'ho raggiunto benissimo! Puttana, però non è morto. Scusate, ma pensavo... ...abbastanza... Cioè, sono abbastanza sorpreso dal fatto che non sia morto. È caduto malissimo di testa sul ponte. Dicevo, comunque, questi caricamenti, cioè... ...sono al limite dell'accettabile nel 2000... ...ma non è che è uscito sto gioco? Adesso lo cerco su wiki, così posso... ...posso dirvi qualcosa di utile invece di minchiate come al solito e basta. Vai ragadute! Sì, ce l'ho fatta! Mica, atterraggio perfetto, ragazzi! Dai, dammi sto coso! Ok, posiziona... No, che cazzo fai? Ok, fatto! Prendi questo... ...ma metti via questo... ...questo cannone, Rico! I forze di di ravello si spostano rapidamente. Fai in fretta! Dai! Ok. Andiamo su. Perfetto! Ce l'ho fatta... Fermo, 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 Rico! Fermo! Fermo! E vorrei tornarci, Ciccio! Vorrei tornarci! No! Ma mi... Porco il cazzo! Ok, ce l'ho fatta! Ok, dov'è? Ok, tieni premuto! Ce l'ho fatta! Uh! Obiettivo raggiunto! E vai! Aspetta! Rilevo degli elicotteri in arrivo! Ok! Due batterie di missili nelle vicinanze! Indico la posizione! Dove siete, raga? Ok, uno lì! Andiamo subito con la tuta! Dai! Ora accedi al parnello di comando dei seti! Cazzarola! Se ti ho fatto male, Ciccio! Preso! Poi dov'è il secondo? Ok, qua! Ci assaltiamo come... Oh no! Forse no! No! Forse no! Beh, comunque si, si prende le botte come niente quest'uomo! Ha una resistenza assurda! Minchia, che bello volare così però! Fa volare! Oh mio Dio no! Perché adesso mi è entrata in testa! Fa volare! Mi sono fatto! Fatto! Tieni premuto l'R3! Posso salire sulla torretta! Dai, vediamo! Ho capito! Tieni premuto l'R3! Vabbè! Li vedo! Ma li vedo anche così, gioco! Mollami! Presi! Proprio in pieno! La torretta è Sam Server! Va bene! Oh! Shit! Che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Cos'è? Cos'è? Non dovevo stare lì? Un'elicottero ha colpito quella... Quella torretta? Ottimo lavoro, Odino! Va bene! E grazie per il tuo contributo al test! Ciao ciao! Ciao ciao! Sono io, Mario! Ok, frigo! Mario frigo! Lo so, frigo! Che ricordi dove abita mia nonna? Statera va la parmigiana! Devi assolutamente venire! Passo! La parmigiana, eh frigo! Ma dove hai il trasmettitore? Ah, è lì! Ebbè, lo abbiamo tutti! Ehi, Enrico! Dovresti dire passo! Passo! Non dirò un bel niente, frigo! Stai buono! Passo! Dai, non pensare ai trasmettitori! Nonna sta già cucinando! Non fare tardi! Arrivo, arrivo! Passo! Eccomi! Non c'era bisogno di dire passo, perché sono già qui, zio! Eh? Un cazzo di ninja! Sì, sono io, nonna! Ma quanto sei sciupato! Vuoi dire a Mario di disfarsi di quel rollo? Rottame sul mio prato! Va bene, nonna! Ma non è... Cioè... Non inquadriamo la nonna perché non abbiamo il budget o qualcosa del genere? Cosa? Non l'hai mai finita? Aspettavo te. Ma non ti biasimo. Sai, per essertene è andato. Mario, non l'avevo scelta. No, Tranky. Sai, non ci avevo mai pensato prima. Ma c'è differenza tra guardare e vedere. Guardi Medici ed è bellissimo, ha un gioiello sotto il sole. Ma se vedi, Medici, è completamente marcia. Mario, da quando sei un filosofo? Ma non è quello, è che... Io... Io sto aiutando i ribelli. Ma sono un impiastro e non abbiamo un esercito vero e proprio. L'hai visto durante gli attacchi di di rappello. I ribelli scappavano. Si nascondevano. È stato imbarazzante. Mario, Rico, la cena è pronta. Nonna, dacci ancora un minuto. Ora entriamo, dacci tregua. Mario, un po' di rispetto. È un po' sorda. Comunque, ho un piano. È vero, di Ravello controlla paesi e città. Ma senza le sue vasi, sarebbe in difficoltà. Raduniamo un esercito, creiamo una forza d'assalto. Voglio liberare Manea. Ma è rischioso, Rico. Ce la faremo. Dobbiamo mostrare alla gente che possiamo riprenderci il nostro paese. Dai. Voglio anche distruggere Vis Electra. Questa è la mia. Cos'è Vis Electra? È ora di darci un taglio. Di Ravello ha costruito la centrale in quanto? Tre? Quattro mesi? Ma... Ho l'intenzione di ridurla in un mucchietto di cenere in meno di un giorno. Ah beh, cioè, i buoni propositi. Se la tua faccia, ti copriremo le spalle. E qualunque cosa tu distrugga, la ricostruiremo. Bene. Molto bene. Allora, perché la distruggi? Non so a te, ma tutte queste chiacchiere... Cioè, solo per dirgli... Ah, lol! Ce l'ho distrutta, figlio di puttana! Ciao! No, seriamente? Allora, perché distruggi le cose? Solo per... Oh, fuck the police! Il sistema corrotto! Svegliatevi! I vaccini! No, forse è meglio non parlare dei vaccini su YouTube, perché sennò dopo... Arrivano con i forconi. Oh, una macchina! Bene, Mario, ciao! Io mi piglio la tua macchina! Ciao, Rico! Bentornato a Medici! Ciao! Sono Alevia, la voce di Radio Rivoluzione! Chi sei? Mario mi ha detto che vuoi liberare Manea e distruggere la centrale di Vise Lentra. Va bene. Ti confesso che sono ansiosa di vederti in azione. Ah, bene! Ti ricontattano appena sei vicino all'obiettivo. Va bene, Ale! Apri il trasmettito. Oh! Ok, Mario, forse ti serve fare una revisione o qualcosa a questa macchina, perché non la vedo molto bene. Questo pannello contiene informazioni sulla munizione e sulle ricompense che riceverai quando l'avrai portata a termine. Ok. Questa decisione spiega come sbloccare la missione. Blah, blah, blah. Ok. Seleziona Manea. Manea. In questo pannello vengono elencati gli apparati militari che devi distruggere per liberare l'insediamento. Ok. Apri il menu contestuale. Posiziona riferimento. Chiudi il trasmettitore. Va bene. Ok. Ok.